Cristina Cacciatuyan si era appena svegliata. Era il 27 luglio 2018. Erano le 19, ci troviamo circa a Mosca. Si era svegliata da un trauma. Dopo aver aperto la porta aveva cominciato a sentire dei rumori. Le sue sorelle, Angelina e Maria, erano davanti al padre. Il padre era seduto su una sedia, con la testa che sanguinava, e cercava di lottare, di alzarsi. Cristina quindi pensava che le sorelle fossero in pericolo. Per questo motivo ha preso lo spray al peperoncino, lo stesso spray che l'aveva fatta svenire qualche ora fa. Dopo averlo preso ha cominciato a spruzzarlo velocemente contro il padre. Temeva per la vita delle sorelle. Quest'ultime invece erano spaventate e anche abbastanza stranite. Non pensavano che Cristina svegliandosi facesse una cosa del genere subito. Pensavano che prima magari avrebbe chiesto della situazione, di quello che stava succedendo. Dopodiché Angelina, la sorella di 18 anni, ha preso un coltello da caccia e ha continuato a colpire il padre più e più volte. Prima alla gola, poi al busto, poi alle gambe, alle braccia, dappertutto. Mikhail Kaciatouyan, appunto il padre, ha cercato di districarsi, di uscire da quella situazione. Le sorelle ormai però erano stanche, quindi l'hanno lasciato andare. Striciandosi ha aperto la porta per poi uscire davanti all'appartamento e rimanere lì, perdere la vita piano piano. Ormai non poteva fare più nulla. Aveva subito troppi colpi. Maria, poco prima, l'aveva anche colpito con un martello in testa. Le sorelle erano spaventate a morte, non sapevano come comportarsi. Cristina quindi ha preso in mano la situazione e ha detto loro di farsi dei tagli, dopodiché di chiamare la polizia. Fu Angelina a chiamarla, dicendo che il padre era stato colpito e che la loro era soltanto legittima difesa. All'arrivo della polizia hanno continuato a dire questa cosa e hanno anche mostrato i segni che si erano fatti col coltello. Ma la polizia aveva capito molto in fretta che quei segni se le erano fatti loro e quindi avevano cominciato anche a dubitare della difesa personale. Perciò le hanno arrestate. Bentornati e benvenuti sul canale. Oggi parleremo di una storia che ha dato inizio a una vera e propria rivolta culturale, grazie semplicemente a tre sorelle. Angelina, Maria e Crestina Kaciatuyan. Questo è il caso delle sorelle Kaciatuyan che è successo in Russia. Un caso abbastanza tragico. Come sempre non mostrerò nulla, ma se volete trovare qualcosa di più carino e coccoloso su YouTube potete assolutamente farlo. Se invece siete pronti, partiamo. Partiamo da una premessa. C'è un grosso problema con la violenza domestica in Russia, specialmente per via di una legge che è stata approvata nel 2017. Attualmente non so come sia la situazione, ma questa legge approvata nel 2017 è stata una cosa non molto voluta da tante persone in realtà. In Russia tengono molto ai valori tradizionali e hanno paura della globalizzazione, o almeno le persone che fanno parte della chiesa ortodossa e le più conservatrici. Specialmente la chiesa ortodossa ha grandi collegamenti col governo. Per questo motivo è in grado di influenzare moltissimo la situazione del governo nel paese. Ripeto, attualmente non so come sia la situazione, ma ciò che vi sto raccontando ora parte dal 2017 e è arrivato anche fino al 2021. Dopo il 2021 non ci sono state più notizie chiare sulla violenza domestica in Russia. Questo perché la legge del 2017 ha fatto molto scalpore in tutto il mondo. Praticamente depenalizzava la violenza verso le donne, la violenza domestica, in special modo verso le donne. Se un uomo avesse fatto male ad una donna non sarebbe successo niente nel caso non avesse lasciato dei lividi o dei segni abbastanza chiari. E comunque, se comunque ci fossero stati ecco dei lividi o cose così, la pena sarebbe stata molto lieve. Circa 320 euro di multa oppure 15 giorni di prigione. Niente di più, niente di meno. Se l'uomo in un anno il marito avesse fatto male più di una volta alla donna, in un anno, si sarebbe beccato tre mesi di prigione. Ma se dopo un anno lo avesse rifatto, quindi una pausa di un anno senza picchiarla, non sarebbe successo di nuovo niente. Soltanto una piccola multa oppure 15 giorni di prigione. Alcuni hanno definito questa legge come un biglietto gratuito all'anno per picchiare le donne. Il governo praticamente ha paura che altre persone si intromettano nella vita familiare di qualcuno. E per preservare questa vita familiare, questi valori culturali, ha deciso di introdurre questa legge che depenalizza appunto la violenza domestica. Perché ci sono state molte segnalazioni prima del 2017 dove praticamente vicini o amici si intromettevano nelle questioni familiari. Vicini o amici dicevano magari che la persona che conoscevano era stata picchiata. E viste tutte queste segnalazioni il governo aveva deciso di fare qualcosa, ma qualcosa nel modo sbagliato. Cioè impedire alle persone esterne di intromettersi troppo nelle questioni familiari. Per via di questa legge ci sono state molte proteste, probabilmente ci sono ancora. Ma le sorelle Kachatuyan nel 2018 hanno infiammato ancora di più la cosa, questa guerra culturale, dividendo la Russia. Ci sono persone che credono nel patriarcato totale e per questo motivo queste persone hanno criticato le sorelle Kachatuyan per aver ucciso il padre. Poi ci sono le donne che subiscono costantemente violenze o le donne che hanno subito e hanno provato a denunciare senza successo che invece sono dalla parte delle sorelle. Ma cos'è successo di preciso? Dopo l'omicidio del padre, le sorelle appunto sono state criticate da molte persone in Russia, non poche, davvero molte. La chiesa ortodossa è intervenuta in difesa del padre defunto dicendo che era una brava persona e che non meritava di morire. I familiari del padre, tra cui la sorella e alcuni nipoti, hanno detto che lui era un bravuomo e quindi era strano che l'avessero ucciso. Forse l'avevano fatto per i soldi, tanti ma veramente tanti. Anche i vicini addirittura della famiglia Kachatuyan avevano detto che il padre non era una persona cattiva. In più alcuni avevano visto anche le foto sui social media delle tre sorelle e quindi pensavano tutto andasse bene in famiglia. In queste foto venivano rappresentate sorridenti, felici. Su facebook spesso avevano foto anche col padre, lo abbracciavano, sorridevano con lui e il padre sembrava molto sereno. Ma veramente così? Questa è la verità? Assolutamente no. La verità è molto più contorta. In quella famiglia c'è tanto da scoprire, da sapere, tanto che vi racconterò adesso. Partiamo prima di tutto da chi era Mikhail Kachatuyan. Mikhail Kachatuyan era fuggito nel 1988 insieme alla sua famiglia in Russia, a Mosca. Era di origine armene, viveva nell'Azerbaijan. In quel periodo c'era un conflitto e dovevano scappare via. Quasi tutta la famiglia, alcuni parenti e tanti altri erano scappati insieme a lui. Era stato cresciuto fin da piccolo con valori tradizionali, specialmente valori riguardanti la famiglia. La famiglia tradizionale era tutto per lui, fin da piccolo. In special modo il fatto che l'uomo dovesse comandare per forza su qualunque aspetto della donna e che in nessun caso la donna avrebbe dovuto lasciare l'uomo o la famiglia. Avrebbe dovuto occuparsi della casa, dei figli, del marito. In più anche a livello religioso faceva parte della chiesa ortodossa e quindi aveva dei valori molto restrittivi, possiamo dire. In realtà il piano iniziale della famiglia Cacciaturian era quello di andare negli Stati Uniti da Mosca, ma non ci erano riusciti, per questo erano rimasti a Mosca. Nel 1996 Mikhail conosce Aurelia Dunduk, quella che sarebbe diventata sua moglie. Soltanto che in pochi anni di relazione, Aurelia, due o tre anni di relazione, aveva capito che Mikhail non era una persona normale e non in senso buono. Mentre il primo anno tutto era molto romantico e la trattava come una regina, dal secondo anno in poi le cose sono cambiate tantissimo. Per ogni minima cosa si arrabbiava, la picchiava, la minacciava. Lei era scappata dalla Moldavia con la sua famiglia e sperava di trovare un futuro migliore a Mosca, ma sfortunatamente la sua famiglia aveva fatto conoscenza con quella di Cacciaturian e Cacciaturian Mikhail si era innamorato di Aurelia ed era un amore possessivo di quelli cattivi. Come detto Mikhail aveva valori tradizionali inculcati in testa, perciò doveva assolutamente sposare Aurelia anche se non l'amava più, non voleva fare brutta figura davanti alla famiglia, davanti ai vicini, gli amici, perché per un anno intero aveva continuato a dire che era la persona giusta. Alla fine Aurelia è stata letteralmente costretta a sposarlo e avere poi Sergei, il loro primo figlio. Aurelia aveva provato anche ad andarsene da Mikhail ma non c'era stato verso, si era trasferita addirittura fuori città ad un certo punto, ma Mikhail l'aveva trovata e ripeto aveva cominciato a minacciare la sua famiglia addirittura, che se lei non avesse sposato Mikhail le cose sarebbero andate molto male. Intanto Mikhail stava acquisendo molto potere in quella zona di Mosca in cui si trovavano. Praticamente raccoglieva soldi dai ristoranti, dai pub locali per dare protezione. Era diventato un vero e proprio criminale e stava cominciando a fare molte conoscenze con persone potenti per via della chiesa ortodossa. La chiesa ortodossa infatti aveva tantissimi nomi importanti dalla sua parte. Mikhail questi nomi li conosceva, addirittura aveva conoscenze con la polizia locale. Per anni ha continuato fino alla sua morte ad avere queste conoscenze e proprio queste hanno spaventato tantissimo le figlie. Ma andiamo con ordine. Dopo la nascita di Sergei le cose sono andate sempre peggio, calando sempre di più a picco per Aurelia. Lei era diventata una schiava in casa, doveva pulire, fare le cose a comando, si stava stufando ma non poteva ribellarsi, aveva paura che la sua famiglia subisse troppo. Il figlio Sergei all'età di 5-6 anni circa aveva cominciato a subire delle violenze dal padre. Lo picchiava costantemente, non gli lasciava tempo neanche di respirare in alcuni momenti. Aurelia cercava di difenderlo come poteva, ma non ci riusciva. All'età di 15 anni addirittura Sergei era stato cacciato di casa perché l'uomo non voleva maschi in casa sua, voleva soltanto donne, femmine e infatti intanto aveva anche avuto altre tre figlie in quel periodo, Angelina, Maria e Crestina. Ormai la casa era tutta sua, l'uomo comandava in ogni modo sulla famiglia. Ad un certo punto nel 2013 si stava stufando di Aurelia e per questo motivo aveva cominciato a farle ancora più male minacciandola anche con le armi. Lei intanto aveva provato ad andare dalla polizia, ma la polizia le aveva riso in faccia. Quel giorno Cacciatorian l'aveva seguita, sapeva che stava andando dalla polizia, ma voleva seguirla per vedere cosa sarebbe successo, perché lui conosceva tutte le persone nella polizia locale. Si era fermato davanti alla stazione guardando da una vetrata e aveva notato Aurelia parlare, mentre i poliziotti ridevano. Lei disperata piangeva e parlava, i poliziotti facevano dei sorrisini come a dire noi che ci facciamo. Dopodiché è entrato alla stazione della polizia e l'ha presa, l'ha strattonata per un braccio, chiedendo scusa ai poliziotti e portandola via. Fuori dalla stazione l'ha anche colpita in testa, tirandole un fortissimo schiaffo, ma i poliziotti non hanno fatto niente e Michael ha fatto vedere quanto potere aveva. La situazione quindi era disperata, finché verso fine 2014 le cose non sono cambiate ancora di più. Michael era andato in vacanza e si era portato dietro le tre figlie e lì sono cominciati gli incubi. La prima a essere stata violentata è stata Angelina. Michael diceva sempre alle figlie che fuori dal matrimonio non potevano avere rapporti intimi, ma che con lui potevano e come, perché era sangue del loro sangue e che voleva insegnare loro come si faceva. All'inizio era questo, poi però aveva cominciato a violentarle e picchiarle per punirle e basta. La prima volta per Angelina successe nel 2014, quando appunto erano andati in vacanza ad Israele. Michael adorava andare alla Basilica del Santo Sepolcro, una delle chiese più importanti del mondo, che si trova a Gerusalemme. Spesso lui andava ma lasciava le figlie in hotel e diceva loro di stare lì, di non fare nulla, di aspettarlo solo nell'hotel. Dopodiché in una stanza faceva entrare una ad una le sorelle e le violentava o le picchiava semplicemente per sfogarsi. Per Angelina la prima volta fu nel 2014. Spaventata rimase in quella stanza tutto il giorno dopo quello che era successo. L'aveva costretta a fare delle cose bruttissime. La madre Aurelia non ne sapeva niente. Tornati dalle vacanze, Michael sembrava arrabbiato, molto arrabbiato. A quanto pare Maria aveva sporcato una delle sue magliette preferite. Questa rabbia l'aveva riversata prima sulla madre Aurelia, dopodiché le aveva detto di andarsene via. Lui quella sera, dopo esser tornato dalle vacanze, aveva detto ad Aurelia di andarsene di casa. E l'aveva anche minacciata, dicendole che se fosse rimasta lì dopo il suo ritorno le cose sarebbero finite molto male. L'aveva minacciata con una pistola. Così dal 2015 sono iniziate delle nuove violenze per le figlie. Ormai c'erano solo lui e le figlie in casa. Aurelia era andata via, non poteva tornare. Era spaventata a morte da quello che avrebbe potuto farle. Le figlie intanto stavano per conoscere il loro nuovo inferno. Michael piano piano diventava sempre più cattivo, sempre più violento. Aveva addirittura una campanella per loro, con cui le chiamava. Questa era una campanella speciale, al primo richiamo dovevano venire subito. Angelina e Crestina non potevano più andare a scuola, perché dovevano stare al suo comando, ogni singolo giorno. Potevano a malapena uscire di casa, soltanto se lui glielo permetteva, un'ora, massimo due ore. Questa nuova vita familiare si rispecchiava anche nella casa. Michael addirittura non voleva neanche che fosse troppo pulita. Voleva rimanesse rudimentale l'appartamento, per ricordarsi dei vecchi tempi in cui aveva vissuto con la sua famiglia, in una specie di baracca. Le figlie a volte avevano la stanza piena di formiche, oppure anche sul letto salivano queste formiche, ma Michael impediva loro di pulire fino a un certo punto. Quando la situazione diventava troppo critica, allora dava loro il consenso. Dopodiché quasi ogni sera le invitava nella sua stanza, una ad una, e diceva loro cosa fare, specialmente cose intime. Le costringeva ad avere rapporti orali, le costringeva a fare delle cose indicibili, le costringeva anche a mettere delle foto sui social per far vedere che tutto stava andando benissimo. Intanto il suo potere aumentava sempre di più, aveva sempre più conoscenze, e per questo motivo le figlie non potevano fare nulla. Loro avevano un po' di amici conosciuti a scuola prima che lui le costringesse a mollare, e questi amici erano preoccupati, ma non riuscivano mai a sapere abbastanza. Angelina a volte mandava loro dei messaggi dicendo cosa faceva il padre, cioè che le minacciava anche con le pistole, le colpiva con le pistole, ma gli amici non potevano fare nulla, perché come detto prima c'era questa nuova legge che permetteva agli uomini di fare un po' ciò che volevano. Michael spesso dopo averle picchiate si riposava nella stanza da letto come niente fosse e chiedeva loro di fare un tè o il cibo, per lui era ormai la quotidianità. Per anni avevano continuato a subire queste violenze, dovevano fare come diceva lui, dovevano vestirsi, camminare, parlare, addirittura in casa alcune parole erano proibite, perché era un uomo molto molto superstizioso, e dovevano rispettare la fede che in cui credeva lui. Obbligatoriamente dovevano rispettarla, le ragazze erano veramente stufe. E arriviamo così al 27 luglio 2018, la goccia che fece traboccare il vaso. Michael aveva installato delle telecamere negli anni in casa per sorvegliarle, specialmente fuori dall'appartamento per vedere chi entrava e chi usciva, anzi per vedere soltanto se le sorelle entravano e uscivano senza il suo consenso. Infatti a volte andava via e diceva loro di rimanere in casa, ma loro però uscivano, non volevano rimanere tutto il giorno in casa senza fare niente, e quelle poche volte che ci avevano provato le aveva picchiate a sangue, perché in qualche modo l'aveva scoperto, c'erano i vicini per esempio che glielo dicevano, perciò lui aveva installato queste telecamere, e anche quel giorno aveva scoperto che le sorelle non stavano facendo come aveva detto. Per questo motivo ritornato a casa le aveva prese una ad una, facendole entrare in una stanza. In questa stanza prima urlava e poi sparava lo spray al peperoncino addosso. Per Crestina però fu fatale, lei infatti soffriva d'asma, lui aveva sparato quello spray ed era svenuta. Maria vedendola aveva cercato di aiutarla e portarla nella stanza da letto il prima possibile. Angelina intanto era rinchiusa nella stanza col padre dove stava subendo la stessa cosa. Quella cosa fece scoppiare Maria, la più piccola, 17enne, non ne poteva più. Il padre dopo aver dato quelle punizioni era andato a sedersi su una sedia, per dormire, così, come nulla fosse. E Maria aveva preso un martello, un martello dall'auto del padre. Con quel martello l'aveva colpito violentemente. Dopodiché era arrivata Angelina, aveva trovato un coltello alla caccia, sempre del padre, e l'aveva accoltellato una volta all'inizio. Tutto questo era successo verso le 18 e 40, 18 e 45, una cosa del genere. Intanto alle 19 si era svegliata Crestina, lei era svenuta alle 15 di pomeriggio del 27 luglio. Svegliandosi aveva visto quella scena e si era spaventata, pensava le sorelle stessero per subire di nuovo chissà cosa, e per questo motivo aveva preso lo spray e spruzzato contro Michael. Ma Michael ormai era abbastanza stordito e cercava solo di sopravvivere, e per questo motivo le sorelle hanno continuato ad infierire. Avevano deciso di farla finita, di ucciderlo finalmente. Angelina quindi aveva continuato a colpirlo, dopodiché hanno simulato tutto quello che era successo dopo, cioè che si erano semplicemente difese, tagliandosi eccetera. La polizia non credette immediatamente a tutto, ovviamente capirono molto in fretta che quelle erano ferite autoinferte. Cominciarono così le indagini, e la Russia comincia così a sapere tutto quello che è successo. E lì si divide letteralmente in due, con persone che sono dalla parte di Michael e persone dalla parte delle sorelle. Le sorelle avevano fatto dei test per verificare le violenze sessuali, ed in effetti quei test avevano dato esito positivo al 100%, ma alcune persone come i parenti di Michael non credevano a quei test, non credevano alle sorelle. I parenti, come le sorelle di Michael, avevano spesso assistito alle violenze dell'uomo verso la famiglia, ma non avevano mai fatto niente perché la ritenevano una cosa del tutto normale. E questi hanno cominciato addirittura una campagna per dire che le sorelle stavano mentendo. Aurelia intanto aveva saputo tutto quanto, non sapeva delle violenze, se no avrebbe cercato di fare qualcosa per aiutarle. Credeva che le trattasse bene. Aurelia, tornata dalle figlie, aveva detto loro che sarebbe andato tutto bene e aveva cominciato ad andare ai vari talk show per parlare della situazione, della vera storia di Michael. Ma a questi talk show erano andate anche le sorelle di Michael e altri parenti. La situazione era diventata pericolosa. Alcune persone avevano cominciato a litigare in strada per questa cosa. Chi provava a parlare di quel caso veniva subito bloccato in qualche modo dall'opposizione. Le sorelle avevano cominciato una vera e propria guerra culturale, avevano fatto cominciare. Intanto stavano investigando i poliziotti per capire cosa era successo veramente. E in effetti tutte le prove portavano ad un'unica conclusione, che era un padre orco. Ma non solo sul suo cellulare, avevano trovato dei video intimi, video che lui faceva con le figlie. E questi video a quanto pare li diffondeva, li vendeva ad altre persone. Ma anche in questo caso i parenti di Michael hanno negato tutto quanto e addirittura avevano detto che erano state le sorelle ad acconsentire ad essere filmate. E che quindi era sempre colpa loro. Qualche mese più tardi dall'omicidio avevano cominciato a spuntare delle petizioni. Una in particolare ha raggiunto 370.000 firme. Una petizione per liberare le tre sorelle, perché a quanto pare le stavano accusando. Proprio a causa di quella legge del 2017 le stavano accusando di omicidio premeditato. Per un anno il caso era andato avanti e tanti erano quasi sicuri che le sorelle sarebbero andate in prigione. I primi mesi loro erano state in prigione, in una prigione femminile. Dopodiché erano state liberate e affidate ai parenti. Qui le era proibito utilizzare internet e avevano anche un coprifuoco. Nel 2019, circa un anno più tardi, erano state accusate di omicidio premeditato. Ma nel 2020, circa, queste accuse erano cadute, perché c'era da investigare meglio su Mikhail. E investigando avevano scoperto tante, tantissime brutte cose. Che estorceva soldi, faceva appunto questi video intimi. Spesso era un uomo violento che picchiava anche altre persone che l'avevano denunciato. Ma quasi tutte le denunce erano state ignorate, come quelle della moglie. La famiglia di Mikhail intanto era perplessa, perché pensava le sorelle sarebbero state messe in prigione per sempre. E continuavano a credere nell'innocenza del padre. Continuavano ancora a dire che non era vero, che era un brav'uomo. Ma le loro parole contraddicevano completamente le loro azioni. Pensate che Sergei, il figlio maschio che era stato cacciato di casa all'età di 15 anni, era stato picchiato proprio da alcuni suoi cugini. Doveva andare ad un talk show per parlare appunto del padre e di quanto fosse violento. Cugini, sapendo questo, l'avevano bloccato e picchiato mandandolo in ospedale. Così non sarebbe potuto andare. Questa cosa si era scoperta perché un giornalista aveva intervistato appunto in ospedale, Sergei. La famiglia quindi aveva deciso di escludere completamente le sorelle da qualunque tipo di eredità, di togliere il loro nome dappertutto e cose simili. Addirittura l'appartamento non sarebbe più andato a loro, perché l'appartamento in teoria sarebbe stato loro dopo la morte del padre. Era stata la nonna a firmare quelle carte, ma proprio la nonna aveva rimosso completamente i loro nomi dal registro familiare. Erano state abbandonate completamente dai loro parenti. Era rimasta solo la madre. La madre poi aveva preso in casa sua Maria. Angelina e Crestina erano andati invece con altre persone. Dovevano essere tenute separate. Il primo anno si vedevano soltanto durante le udienze in corte. Nel 2022 il coprifuoco era stato tolto, ma loro ancora non potevano utilizzare internet. Però erano state ufficializzate le accuse contro il padre. Era chiaro come fosse stato un uomo terribile, ma non bastava a quanto pare, perché le indagini sono ancora in corso. Le tre sorelle ancora non sono state scagionate del tutto. Questo perché, in base a ciò che succederà, potrebbero cambiare tantissime cose in Russia e far arrabbiare tantissime persone. Il padre, come detto, faceva parte della chiesa ortodossa e questa chiesa ha collegamenti tutt'oggi con gran parte del governo. In più, Mikhail rispecchiava perfettamente i conservatori che ancora adesso credono nel patriarcato più estremo. Per questo motivo, dalla sua parte, nonostante sia morto, ci sono tantissime persone potenti. Con questo noi concludiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se c'è qualche dettaglio che magari ho mancato, scrivetemelo pure. Ci sentiamo al prossimo caso, gente! Grazie!